26 persone arrestate, 822 indagate in stato di libertà, 23.177 soggetti complessivamente identificati. Inoltre i servizi congiunti con le polizie degli stati con termini di vigilanza e scorta sui treni viaggiatori trasfrontalieri hanno permesso di rintracciare complessivamente 1.487 stranieri in posizioni irregolari. E ancora ben 180 minori italiani stranieri rintracciati dopo essersi allontanati da casa o dalle strutture di accoglienza. Sono queste le cifre più significative che certificano i risultati dell'attività di controllo all'interno delle stazioni e sui treni svolta nel corso del 2017 dal compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia di Trieste. Oltre 10.000 le patuglie attive nelle stazioni e 4.000 a bordo treno che hanno scortato quasi 7.500 convogli con una media di circa 21 treni al giorno a cui si aggiungono gli 854 servizi antiborseggio svolti in abiti civili sia negli scali che sui treni. La Polizia Ferroviaria che l'anno scorso ha festeggiato il suo 110 anniversario essendo stata fondata in Italia il 24 giugno 1907 rappresenta la più antica specialità della Polizia di Stato e svolge quotidianamente e stato sottolineato la propria attività per garantire la sicurezza dei viaggiatori grazie anche all'ausilio di moderni strumenti e alle numerose telecamere presenti nelle stazioni. In tal senso rispetto al 2016 sono state ulteriormente incentivate le attività di prevenzione con un aumento dei servizi straordinari finalizzati anche a combattere e reprimere il traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Un aspetto non secondario è infine rappresentato dalle misure adottate per intervenire in soccorso di persone colte da malore in stazione. Gli uffici degli Scali di Trieste e Udine sono infatti dotati di defibrillatore e gli agenti della Polizia Ferroviaria sono stati adeguatamente formati con specifici corsi per utilizzare tali strumenti fondamentali per salvare vite umane quando si manifestano crisi di natura cardiaca.